Sono a casa in quarantena pur non presentando sintomi e aspettano l'esito del tampone cui sono stati sottoposti gli studenti valtellinesi che frequentano l'Istituto Agrario di Codogno e che hanno fatto il viaggio di ritorno col 17enne di Valdidentro positivo al coronavirus. Il risultato è atteso per questa sera, dopodiché questo tavolo di coordinamento in prefettura deciderà quali sono le prossime strategie, le prossime modalità di azione. Naturalmente ci auguriamo che sia tutto nel senso auspicato, dopodiché faremo tutto quello che c'è da fare. Riunione di aggiornamento oggi in prefettura per fare il punto e soprattutto per meglio capire come applicare le disposizioni previste nell'ordinanza diramata ieri sera da Regione e Ministero della Salute. Chiarimenti sono attesi in queste ore con riguardo a vari ambiti a partire dall'accesso agli uffici pubblici. Nelle more io ho invitato ciascun capo ufficio a organizzare autonomamente l'accesso ai propri uffici tenendo presente quella che è la razio di tutte le norme e cioè evitare assemblamenti, evitare concentrazioni di pubblico, evitare afflussi indiscriminati e in grandi quantità di persone. Altro aspetto da chiarire è quello delle attività commerciali, della ristorazione e dei pubblici esercizi. Per esempio si parla dei bar che devono rimanere chiusi dalle 18 alle 6 dell'indomani, però ci sono anche i bar che sono all'interno dei ristoranti, quindi bisogna chiarire questo aspetto. Così pure per i mercati, i fieri e i mercati, i mercati al chiuso sono già previsti nell'ordinanza, ma ci sono anche i mercati all'aperto che non vengono inseriti. Quindi ci sono una serie di aspetti anche sull'ambito commerciale che vanno chiariti e precisati. Comprensibile nella popolazione e nei sindaci un certo disagio, ammette il prefetto, ma l'invito resta quello e la serenità. Non sappiamo quanti sono stati i contagiati e non sappiamo quale può essere l'evoluzione. È importante questa settimana, che poi se tutto va bene è solo questa settimana, quindi se c'è da fare un sacrificio lo facciamo tutti. È importante che in questa settimana osserviamo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione, che ci consente appunto di restringere, contenere il territorio contagiato e di evitare che si diffonda.